Siamo ospitati in un posto bellissimo che non potete vedere perché siamo in un podcast, che è una grotta, una grotta di ricovero delle barche del porticciolo dell'Arenella, un luogo magico. Siamo andati ad analizzare quali erano i principali impatti legati ai cambiamenti climatici in ambito marittimo. Un cigno nero è un evento non previsto che ha devastato una parte della costa. E soprattutto parliamo di grandi opere, quindi come autostrade, ferrovie, porti, dighe, tutte opere che influiscono sulla vita quotidiana di ogni cittadino. Eccoci a un altro incontro con un protagonista della valutazione di impatto ambientale. Oggi come protagonista abbiamo un proponente, cioè quelli che presentano al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica un progetto che entra in procedura via. Quindi oggi ho qui con me l'ingegnere Nino Viviani, Viviano, perché io sono Viviana Lucia, lui si chiama Viviano di cognome, abbiamo qualche problema o mi sono un po' impappinata. E quindi l'ingegnere Nino Viviano che ci racconta del suo lavoro all'interno dell'autorità portuale. Nino, buongiorno a tu, dove lavori? Buongiorno, Viviana. Viviana è Viviano. Esatto, una nuova e uno cognome. Esatto. Sono dell'autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Occidentale. Gestiamo i porti appunto della Sicilia Occidentale, comprendenti Palermo, che è la sede principale istituzionale anche storicamente, Termini Merese, Trapani, Portempedo, Crelicata e Gela. E qui in autorità portuale, quindi, mi sono occupato di vari interventi, sia come progettista, sia anche come, diciamo, supporto al responsabile unico del procedimento. Oggi siamo al porto dell'Arenella. Oggi siamo al porto dell'Arenella, perché un intervento che è stato approvato e finanziato nell'ambito del PNRR e PNC, PNR, rappresentato proprio dal prolungamento del molo foraneo dell'Arenella per un'estensione di circa 100 metri. Questo intervento consentirà di migliorare, quindi di ridurre l'agitazione ondosa portuale, e quindi di fruire al meglio il porto. Ho sentito che voi avete prodotto un determinato documento che parla di adattamento ai cambiamenti climatici, mitigazione dei cambiamenti climatici. Quindi questo progetto, che non è grande sia piccolo, come affronta questa tematica? Qual è la risposta a questa problematica importante per tutti? Uno dei focus è stato sui cambiamenti climatici e siamo andati ad analizzare quali erano i principali impatti legati ai cambiamenti climatici in ambito marittimo, che come noto sono l'innalzamento del livello medio del mare e la maggiore frequenza e intensità delle mareggiate. E quindi è stata fatta questa analisi ed è stata accoppiata in fase di verifica, di stabilità delle dighe, con appunto un innalzamento del livello medio del mare dovuto per esempio ai famosi medicain, di cui si parla tanto, proprio legato a questo innalzamento, a questo storm surge importante. ovviamente un'infrastruttura come quella di cui stiamo parlando è un'infrastruttura per nautica di Porto, quindi diciamo che non ci sono infrastrutture sensibili che bisogna proteggere e quindi il problema è che ci siamo più concentrati sulla stabilità della diga, piuttosto che sulla tracimazione. Quindi abbiamo verificato che anche in condizioni estreme, con il classico cosiddetto cigno nero, comunque l'infrastruttura riesce a resistere a queste condizioni. Allora abbiamo parlato di cigno nero, nel caso, per fare un esempio di cigno nero, potremmo riferirci all'affondamento della barca che si è verificata proprio a Porticello, quindi vicino a Palermo, nell'estate 2024, oppure al medicain che si è verificato nei pressi di Siracusa nel febbraio 2023. Questi sono esempi di eventi inaspettati che provocano danni veramente enormi. Passando ad altro, allora riferendoci al progetto, quali sono le opere di mitigazione o compensazione che avete predisposto? Sì, la principale opera di compensazione è quella legata alla posidonia oceanica, proprio perché in fase preliminare alla progettazione è stato eseguito uno studio mediante sistemi ovviamente avanzati, multi-beams, scansonar, oltre a ROV, quindi per verificare la presenza. Abbiamo visto che sulla parte in cui noi prevediamo di avanzare la diga, anche se siamo in ambito portuale, però diciamo che il contesto ambientale è idoneo alla presenza di posidonia. Quindi una prescrizione specifica che ci hanno dato nell'ambito dell'evoluzione di impatto ambientale è proprio quella di trapantare la posidonia all'interno della stessa prateria. Quindi è stato fatto uno studio ora prima dell'intervento per individuare esattamente la posizione, è stato individuato delle zone della prateria in cui c'erano delle parti mancanti e quindi in queste zone stanno attualmente eseguendo il trapianto e quindi già hanno eseguito circa 200 metri quadrati di trapianto e a breve termineremo per poter poi cambiare l'intervento. Qual è la metratura prevista? Complessivamente 1000 metri quadrati. Noi per mandato istituzionale produciamo linee guida sulla valutazione di impatto ambientale, in questo caso anche su moltissime altre tematiche. Voi come proponenti fate riferimento a ISPRA e in che modo? Lo studio che è stato fatto per valutare ad esempio la morfodinamica costiera, nel caso dell'Arenella, è stato eseguito tenendo conto delle linee guida nell'ambito dell'ingegneria della modellazione numerica in ingegneria costiera e per esempio in base alla tipologia di fondale le linee guida prevedono l'utilizzo per esempio di modelli bidimensionali piuttosto che tridimensionali. Quindi in questo caso il fondale, l'approccio di quello che ci interessava era la morfodinamica sotto costa e quindi è stato utilizzato il modello bidimensionale. Mentre ad esempio in altri casi, i studi che abbiamo fatto in ambito dell'autorità di sistema portuale come per esempio il studio a supporto del dragaggio del porto di Trapa abbiamo utilizzato modelli 3D proprio perché lì era importante andare a vedere come variava la corrente lungo la volna d'acqua. Mi pare che ci sono delle linee guida anche su il dragaggio. Ci sono anche delle linee guida sul dragaggio, sì, sì, sono molto prolifici. Sì, siamo molto prolifici, esatto. Un proverbio siciliano comunque è qualcosa di tipico relativo al modo di approcciare l'uomo con la natura che in realtà poi questo proverbio è più anche di tipo caratteriale nel senso che è cala tiuncu che passa la china cioè significa quando arriva la piena, quando arriva quindi un evento naturale eccezionale l'approccio migliore non è quello di bloccarlo ma è quello di provare a andare nella direzione quindi a calarsi, a piegarsi come un giunco, come un giunco che si cala, quindi che si piega davanti alla piena che è un po' questa è la logica della resilienza. E dell'adattamento ai cambiamenti climatici è perfetto. Mille grazie. L'ospite di questa puntata ci ha dato molti spunti di riflessione per cui abbiamo pensato di invitare una collega ISPRA Luisa Nicoletti del Centro Nazionale Coste che ci aiuterà in questi approfondimenti parlando di ambiente marino nello specifico quindi quando si progetta un'opera a mare, Luisa? L'opera a mare è diversa per alcuni aspetti rispetto alle opere a terra ad esempio, facciamo un esempio concreto così mi riallaccio anche a quanto è stato detto prima quando dobbiamo progettare un molo per proteggere un porto oppure una barriera per difendere la costa dall'erosione è necessario pensare in grande Gli effetti che queste opere hanno sugli ecosistemi marini, sugli organismi sia vegetali che animali possono verificarsi a enormi distanze rispetto all'opera stessa anche chilometri, stiamo parlando di chilometri di distanza In mare poi un'altra differenza grande rispetto all'ambiente terrestre è che tutto è immerso, tutto vive e si muove nell'acqua liberamente, senza barriere o quasi Perché hai detto quasi, Luisa? Quasi perché anche in mare in effetti ci sono delle barriere che impediscono agli organismi di spostarsi dovunque ma sono però delle barriere invisibili ai nostri occhi è sufficiente che ci sia una temperatura diversa dell'acqua o una diversa salinità per formare una barriera insormontabile per molti organismi e proprio perché sono invisibili ai nostri occhi queste barriere sono molto difficili da individuare Quindi parliamo di effetti a chilometri e chilometri di distanza quindi effetti invisibili ma quindi di che cosa stiamo parlando? In che modo questo ha a che fare con le opere? Allora, facciamo un esempio concreto Bisogna prolungare un molo di un porto per proteggere meglio il porto stesso Sicuramente questo avrà un effetto locale sull'ambiente marino Il molo infatti sarà posto sul fondo del mare e in qualche modo tomberà, distruggerà tutti gli organismi che vivono sul fondo e dentro la sabbia e questo è un effetto facilmente intuibile a tutti quanti Ci potrebbero però poi essere dei cambiamenti sulle caratteristiche dell'acqua Per esempio una deviazione della corrente a causa della presenza di questo nuovo molo e quindi una modifica della direzione o intensità di questa corrente Questo che cosa può causare? Potrebbe causare una scarsa ossigenazione dell'acqua in alcune zone oppure un aumento della temperatura o della salinità a causa di una scarsa circolazione Ecco, questi sono esempi di barriere invisibili Parliamo adesso degli effetti che questo può avere sugli organismi viventi Allora possiamo assistere a grandi morie di pesci alla presenza di mucillaggine alla scomparsa di organismi che non tollerano variazioni di salinità fenomeni dei quali si è parlato molto anche quest'estate anche se più in connessione con i cambiamenti climatici ma la stessa cosa potrebbe essere in relazione a delle opere in mare Ma invece per quel che riguarda l'area coinvolta proprio il perimetro se si può parlare di perimetro in un'area marina come lo possiamo definire? Allora, la presenza del prolungamento del molo potrebbe causare un cambiamento dell'idrodinamica locale andando a cambiare le caratteristiche ambientali anche a notevole distanza Il nuovo molo che andiamo a costruire potrebbe bloccare completamente o solo in parte la sabbia trasportata per esempio dalle correnti marine e causare spiagge anche lontane diversi chilometri un'alimentazione minore causandone per esempio la loro erosione e il loro arretramento Noi percepiamo molto bene il ritirarsi delle spiagge che è un fenomeno sempre più attuale ma dobbiamo immaginare che come cambia la spiaggia emersa cioè quella che noi possiamo vedere e calpestare così cambia anche quella parte di spiaggia sommersa e di conseguenza questo incide su tutti gli organismi marini che la popolano Se l'erosione interessa un'area sabbiosa nella quale ho una prateria di Posidonia oltre alla spiaggia sarà erosa anche la prateria con conseguente perdita delle piante Bene, quindi come possiamo concludere questo approfondimento sull'ambiente marino? Ma io potrei concludere dicendo che se non facciamo molta attenzione a quello che progettiamo di fare in mare possiamo anche dire che saremo in un mare di guai Beh, grazie Luisa, benissimo Grazie a te Chiudiamo questa puntata sull'ambiente marino con diversi ospiti dandovi un punto di vista particolare Cosa bisogna guardare? Vi lascio alla frase che abbiamo scelto per voi Come si fa a spiegare il mare? A chi lo guarda e vede solo acqua?